La prima cosa è che io sarò estremamente di parte, perché immaginate un momento di essere in un paese straniero che possa essere qualunque paese straniero di vostro gradimento e che a un certo punto vi chiamino sul palco per dire adesso tu vieni e ci racconti l'Italia, no? E uno dice, minchia, no? Da dove inizio? Magari quello lo pensa, lo pensa ma non lo dice. Perché c'è un problema di drenaggio dei pensieri. Poi metti la virgola e quello che c'è dopo la virgola lo può dire. E dice ma io esattamente da dove comincio a raccontare l'Italia, perché l'Italia è un paese grande, è un paese con tantissima cultura, tantissima storia, tantissime cose e via dicendo. Ecco, io oltre ad essere cittadino italiano sono anche cittadino turco e quindi oggi io mi ritrovo a raccontare la mia seconda patria. e quindi dove ho vissuto un po' di anni della mia vita, dove mi sono avvicinato, l'ho girata abbastanza in bicicletta, con l'autobus in auto, insomma, con pressoché tutti i modi disponibili e quindi oggi essere qua in questo palco a dire in venti minuti cos'è la Turchia è un po' complesso. Eh sì, infatti è per quello quando ho letto il titolo La Turchia in bicicletta, ma da dove partire? È un po' over promise, io partirei un attimo dalla storia, no? Perché noi italiani siamo bravi a raccontarci la nostra storia e poi ci dimentichiamo dei paesi limitrofi, perché noi siamo un paese, l'Italia è un paese con tanta storia, prima arrivano i fenici, poi arrivano i greci, poi arrivano i romani, insomma è tutto quello che sappiamo. Ecco, la Turchia, più o meno immaginate, è il luogo dove inizia la civiltà, la Mesopotamia, no? Poi arrivano gli ittiti, arrivano chiaramente le altre colonizzazioni, arrivano anche lì i fenici sulla costa, arrivano i greci, arrivano i romani, i bizantini, no? Poi arriva l'impero ottomano, tutto quello che sappiamo, prima guerra mondiale, arriva la Repubblica e qua siamo oggi, no? In 30 secondi vi ho raccontato la storia di un paese che anticamente veniva chiamato Asia minore e che, insomma, è ricchissimo, come potete immaginare, di cose, no? Non solamente per la sua storia questa, ma perché poi la Turchia, essendo una terra di mezzo, come quella degli Hobbit, no? È il luogo di passaggio, è stato il luogo di passaggio delle merci che per secoli hanno attraversato quella che era la via della seta, no? Quindi, insomma, tutto ciò che doveva arrivare da noi in Occidente, pensate a Marco Polo, no? Che ha aperto questa via, doveva passare necessariamente da lì. E quindi vi rendete conto della ricchezza che uno può trovare in un paese di questo tipo. Ricchezza, prima di tutto, di patrimonio culturale, storico, eccetera. E poi, soprattutto, la cosa che mi sta maggiormente a cuore, veramente, che mi scalda il cuore, che mi commuove, è il cibo, no? Perché poi ogni popolo che arriva porta le sue usanze, le sue caratteristiche, via dicendo. E noi italiani, che siamo particolarmente attaccati alla nostra tradizione culinaria, che poi, quando arrivano gli stranieri in Italia, dicono «Madonna, in Italia si mangia solamente pasta, pizza, riso, eccetera», no? Ecco, in Turchia è veramente una cosa incredibile, perché hanno una ricchezza dall'est all'ovest, che vive un po' di queste diverse cose. Ecco, viaggiare in bicicletta in Turchia significa esattamente passare attraverso tutte queste cose. Tutti questi mondi. Tutti questi mondi, tutte queste diverse civilizzazioni che si sono succedute nel corso del tempo, che hanno lasciato le proprie tracce storiche, artistiche, ma anche poi culinarie, con delle tradizioni che sono ancora lì a ricordarci. Per esempio, dei popoli turchi che arrivavano dall'Asia centrale e che hanno inventato lo yogurt e ce l'hanno portato qua. Poi i greci l'hanno saputo commercializzare sicuramente meglio. Però, insomma, questo qua è un po' la base della Turchia. Ma veniamo alla bicicletta. Sì, anche perché, appunto, poi magari citiamo anche solo delle regioni per dare l'idea della diversità, no? C'è il mare, quindi c'è questa costa che confina sostanzialmente... che poi è il mare della Grecia, no? Non so, a me vengono in mente Asan Cave, e tutta quella parte meravigliosa, antichissima, del Kurdistan, che non ho attraversato in bici, ma... No, neanche io, sinceramente. Io mi sono fermato... Però per dire, c'è la Cappadocia, ci sono proprio regioni, veramente pianeti da incontrare. Ecco, vi faccio vedere un attimo la cartina della Turchia, perché poi alla fine, da qui secondo me vale la pena partire, cioè dalla fine della presentazione, dove ci sono... Questa è la Turchia, più o meno, manca un pezzettino ancora ad est, però dove le parti che sono maggiormente ciclabili, percorribili in bicicletta, sono un po' quelle che sono tracciate su questa mappa. In alto a sinistra vediamo che c'è la città di Istanbul, che non ve lo devo raccontare che cos'è, è stata, insomma, anche quella costruita su sette colli, ma a differenza di Roma ci passa in mezzo il mare, no? Quindi voi provate a immaginare... C'è qualcuno che è già stato in Turchia? Sulle mani? Ah, ok. Chi non c'è stato, provate a immaginare Roma, no? Roma, perché più o meno la storia è quella lì, visto che è stata la capitale dell'impero romano d'Oriente, attraversata dal mare, no? Quindi con questa bellezza incredibile, eccetera. E poi c'è tutta la costa occidentale, che è quella che io amo di più, visto che ho vissuto per diversi anni nella città di Smirne, dove ho avuto un'esperienza meravigliosa, perché voi sapete che conoscete la rete Eurovelo, no? La rete Eurovelo è questa rete di itinerari che attraversa tutta l'Europa e che è come, insomma, sapete che c'è una rete di treni che permette di andare da Lisbona a Kiev e una rete autostradale che permette di andare da Oslo a Reggio Calabria, fondamentalmente. La stessa cosa esiste anche per le biciclette. E in particolare io ho avuto la fortuna, poi le foto ve le faccio vedere con calma, eccetera, eccetera. Ho avuto la fortuna di partecipare al percorso, diciamo così, di studio dell'Eurovelo 8 che passa, secondo me, per quelli che sono alcuni dei luoghi più suggestivi del paese. Izmir, in turco, in italiano, la chiamiamo Smirne, no? Per intenderci, è la città di nascita di Omero, no? Ah, questa non la sapevo. Si trova, voi pensate a Palermo, tirate una linea orizzontale, arrivate fino alle coste dell'Egeo, trovate la città di Smirne che originariamente veniva chiamata la perla dell'Egeo, no? E che è stata rifondata da Alessandro Magno, quindi un'altra cosuccia così, e che ha più o meno 8 mila anni di storia come territorio. Ecco, questa è tutta la costa dove, quando io ho avuto modo di vivere in quel territorio, dal 2012 al 2016, sono iniziate le prime escursioni in bicicletta alla ricerca di quelli che venivano chiamati i centri antichi, no? Il tour in bicicletta e i centri antichi. Quindi una volta all'anno quelli che erano l'equivalente dei cicloattivisti, dei ciclisti locali, andavano alla scoperta di questi antichissimi, stiamo parlando di 2.000-2.500 anni di storia, questi antichissimi territori, città borghi, di epoca greca, di epoca romana, che poi conservavano delle rovine e via dicendo. Ecco, questo pezzo che stiamo vedendo in questo momento parte, giusto per dare un'idea, dalla città di Pergamo, che è stato uno dei grandi centri, fino ad arrivare in basso nel punto più a sud nella città di Efeso. Caspita, quanti chilometri sono? Allora, questo percorso sono, credo, un 200 chilometri, così vado a memoria, perché poi questo è il percorso che è stato tracciato, che come vedete parte da nord e quindi da Pergamo, segue tutta la costa, segue delle città che si chiamano Focia, entra in città Ismir, che come città è l'equivalente più o meno di Napoli, cioè costruita su un golfo, che però, a differenza di Napoli, ha una pista ciclabile che praticamente permette di percorrerla tutta da quello che è a nord, che viene chiamato il paradiso degli uccelli, quindi è una zona paludare che viene attraversata in bicicletta che è meravigliosa, io vi sconsiglio di farla nei mesi estivi, perché se non è l'umidità e il caldo sono le zanzare, ovviamente, e che poi entra in città, segue tutta la costa, fa passare nel centro dove c'è il caravan serraglio, dove effettivamente arrivavano le carovane dall'est dell'Asia e che poi venivano imbarcate dove le merci venivano poi imbarcate e spedite da noi in occidente. E poi si continua verso sud in quella penisola che vedete in basso che è la penisola di Cheshme, che è il punto di arrivo dei traghetti che partono da Ancona, per intenderci, quindi volendo ci sono anche questi collegamenti comodi per imbarcare la bici senza aereo, quindi senza smontaggia, e si arriva direttamente. Sì, ci vuole un po' chiaramente fare il traghetto da Ancona a Cheshme, però è una cosa interessante, altrimenti ci sono anche dei voli diretti, chiaramente, da Malpensa a Smirne, Smirne è un aeroporto internazionale molto ben strutturato, molto ben servito. Si passa attraverso quelle che sono veramente la culla della civiltà nostra occidentale, perché poi lì era dove c'erano le basi nevralgiche dell'impero ottomano e dell'impero romano nell'espansione verso est e soprattutto della civiltà greca ionica. Questi sono un po' i paesaggi che si vanno a incontrare. Anche questo paesaggio nel bicchiere è interessante. Questo è un paesaggio nel bicchiere perché qua stiamo vedendo una zona che si trova, come vedete, sulla sinistra c'è un cavallo stilizzato che qualcuno magari se lo ricorda da un film con Brad Pitt che è Troi perché in Turchia c'è la città di Troia e quindi quando si viene a parlare o meglio sicuramente in quella zona poi hanno deciso un archeologo tedesco che gli archeologi tedeschi sono quelli che decidono le sorti dell'umanità. Le sorti dell'archeologia mondiale. Loro hanno deciso che lì c'era Troia e lì hanno deciso visto che ci sono poi rovine dappertutto e quando dico dappertutto significa che esperienza mia personale vai in bicicletta entri in un villaggio qualsiasi e dici guarda ma a me risulta che qua ci dovrebbe essere un antico centro che una volta si chiamava Metropolis che il nome è la città di Superman ma che oggi la parola Metropoli ci dice è una città particolarmente grande e c'è questo ragazzotto un bambino che ti porta per mano e ti dice sì sì guarda e ti fa vedere queste colonne queste capitelli che sono lì dove ci pascono le pecore cioè per cui dà ancora un senso di esplorazione per chi ha voglia che magari voi immaginate di arrivare oggi a Pompei che è tutto circondato e via dicendo anche se sappiamo che scavando troviamo nuove cose ecco lì è ancora quella fase dove la ricerca archeologica c'è di tutto dappertutto ovviamente fai un buco trovi delle terme trovi qualunque cosa e siamo ancora in quella fase dove veramente riesci a trovare riesci a avere l'esperienza di tornare indietro di 200 anni e di essere come i primi esploratori che arrivano lì alla ricerca delle radici della storia e le trovi e le trovi lì e sono lì da toccare e ti ci siedi sopra e ti mangi un panino e ti bevi un tè tornando invece al bicchiere ecco una cosa che stanno sviluppando nell'ultimo periodo è la produzione di uva non solamente da tavola ma anche vini e sono dei vini che stanno vincendo medaglie internazionali premi e via dicendo insomma è una cosa che assolutamente raccomando ti posso fare una domanda? per favore perché hai parlato appunto di tutti questi punti siti archeologici di cui è costellata la Turchia ci sta venendo voglia ovviamente di scoprire il territorio ma a livello ciclistico come sono messi? come in Turchia come si pedala? come si pedala? allora rendiamoci conto di una cosa se guardiamo la forma che ha la costa ci rendiamo ecco qua per esempio vedete questa qua è la pista ciclabile che entra all'interno della città di Ismir che è un percorso che segue tutto il golfo che sono circa 70 chilometri e quindi però non è chiaramente tutta così cioè non immaginatevi la romantice strass in Germania però quello che succede questo qua è Efeso giusto per per dire una cartolina così da buttare via intermodalità sempre di nuovo è Efeso scusa vado veloce come si pedala? si pedala innanzitutto per quanto riguarda l'Eurovelo 8 è tutto perfettamente segnalato che vediamo anche in questa immagine quindi c'è l'indicazione dell'Eurovelo quindi insomma si attraversano questi borghi di pescatori molto molto carini sfruttando strade secondarie perché insomma quella cosa che bisogna considerare è che se andiamo a vedere com'è fatta la costa turca è tutta molto frastagliata e quando è frastagliata significa che ci sono delle salite e quindi vuol dire che a parte la parte centrale che è un alto piano dove però appunto sono tutte salite e discesi quindi è opportuno avere una buona gamba la cosa positiva qual è? Uno che ci sono tantissime strade secondarie che possono essere utilizzate e che sono strade di prossimità per andare dal villaggio A al villaggio B una cosa che non vi ho detto è che la popolazione la Turchia è un paese con 80 milioni di abitanti che sono concentrati quasi tutti all'interno di 5-6 città fondamentalmente quindi ci sono queste 5-6 città che sono molto grandi Istanbul 18 milioni di abitanti Ankara 8 milioni Smirne ne fa 4 milioni e poi ci sono tanti villaggetti in giro dove entri e ti sembra di entrare in questo villaggio e ti sembra di entrare in casa delle persone che però non è che entri in casa delle persone come succede spesso da noi in montagna nel territorio dei territori montagnosi dove tu entri nei villaggi vai al bar insomma e ti guardano come dire tu che cazzo vuoi che cosa vuoi cosa ci fai qua come sei finito qui c'è un po' questo senso che io credo derivi un po' dalla cultura anche musulmana che vede nel viaggiatore un messaggero di Dio e quindi ti accolgono con il toffetto rosso oh no ma tu non ti fai in idea cioè tu vai in giro e c'hai la gente che ti fermi un attimo a prendere dell'acqua e anche se non conosci la lingua questi ti prendono per mano che pensi che ti stiano rapendo invece no ti stanno offrendo il pranzo ti stanno offrendo il tè ovviamente sempre e comunque insomma ci sono poi le tradizioni locali che sono una cosa incredibile ecco l'altra cosa che volevo dire il tè già si chiama ciai scusa ciai ciai il ciai che è una delle bevande tradizionali sempre bollenti ne bevi circa 500 al giorno provoca suefazione e dipendenza però devo dire che una volta che lo porti qua e cerchi di farlo qua cambia sapere come il formaggio che quando lo mangi in montagna è buono lo porti a valle non è più buono ecco sempre rispetto al pedalare devo dire questa cosa che quando non ci sono delle strade secondarie ci sono comunque delle arterie principali che essendo la Turchia un paese di recente sviluppo quando hanno fatto le strade quelle che sono le strade di grande collegamento a parte che oggi è ben servita da sistemi di autostrade quindi la maggior parte delle macchine si spostano lì però sono rimaste quelle che potremmo chiamare delle specie di superstrade che quando le hanno progettate però hanno previsto che sul lato destro della carreggiata ci fosse lo spazio per il contadino con l'asino il carretto con il cavallo che ormai non ci sono più però la striscia sulla parte destra della strada è rimasta che sono più o meno due metri e mezzo di spazio con una bella riga sulla sinistra che nessuno si sognerebbe mai di passare e quindi è come se tu avessi una corsia ciclabile lunga 500 km 1000 km che ti porta poi fondamentalmente lungo tutta la costa per arrivare fin dove vuoi fondamentalmente e questo qua insomma è veramente quella cosa che la Turchia è un paese che non so se per pregiudizio nostro o per colpa loro c'è sempre questa cosa che viene vista un po' come scetticismo con un po' di scetticismo invece è veramente il ponte anche geograficamente tra una serie di culture che uno dice cioè se volete provare l'ebrezza di come dire dell'avventura senza il pericolo che sono due parole che sembra che debbano andare sempre assieme cioè Turchia è quel luogo in cui farlo perché ti immergi realmente in una cosa che ti sembra estranea e che poi a un certo punto dici ma certo siamo sulle basi accogliere le strane o volere bene al prossimo insomma e anche la barriera culturale linguistica poi non esiste perché anche tutte queste queste storie che ci raccontiamo molto spesso sull'islam intollerante via dicendo io ve lo giuro cioè ho vissuto diversi anni e a parte che nel mio quartiere ero la mascotte del quartiere perché ero quello che parlava il turco peggio di tutti sì sì beh poi alla fine devi nel senso che poi alla fine quando quando tu gli parli l'inglese e loro non ti capiscono tu impari il turco per forza però devo dire che anche ogni volta in cui mi sono spostato in giro ho avuto questo piacere aggiungo un'ulteriore cosa che noi italiani abbiamo un privilegio meraviglioso che me ne sono reso conto viaggiando in giro per il mondo che è questo che quando tu sei per dire americano stai sempre un po' su qualcuno noi italiani siamo quelli della pizza dei film che tutti amano della bella vita ciao bella tutti questi pregiudizi positivi perché alla fine abbiamo sempre fatto storicamente un favore a qualcuno e c'è sempre lì qualcuno che se lo ricorda e che ti dice sai che mio nonno aveva fatto quelle robe lì e scusa io non vorrei tirare troppo lungo che ore abbiamo fatto abbiamo fatto le 11 e 28 ok cioè potrei andare avanti fino a domani mattina se volete io invece penso sempre a chi poi monta in sella e vuole cominciare a pedalare da quelle parti a livello di servizi anche per trovare gli alloggi eccetera o per eventualmente noleggiare una bici quindi andiamo poi su consigli pratici consigli pratici allora il primo consiglio pratico che vi do è andare qua su Komoot dove potete scaricare le tracce degli itinerari precedenti ve la lascio avete fatto le slide avete fatto le foto eccetera l'altro consiglio che vi do allora discorso noleggi è ancora in fase di sviluppo figurati cioè il cicloturismo da noi in Italia è un po' io da organizzatore della fiera del cicloturismo dico che siamo in un brodo primordiale loro pure in Turchia pure quindi non sai esattamente cosa trovi quindi il mio consiglio è sicuramente andare sul sito cycling.goturkia.com e lì trovate tutte le informazioni disponibili l'altro consiglio che vi do è probabilmente dipende dal tour che volete fare perché se volete fare un tour con un e-bike volete fare una cosa te la rimetto certo ci mancherebbe dipende dal tour che volete fare probabilmente può avere senso portare la propria bicicletta perché secondo me come dire ecco non è come dire la dubbiacolins cioè non vi sto raccontando storie per cui andate che è tutto facile è tutto discesa no per cui è un po' fatto con lo spirito dell'avventura ma uno spirito dell'avventura controllato quindi il mio suggerimento è portatevi la vostra bicicletta ospitalità potete dormire il problema è che veniate rapiti per dormire a casa delle persone vi rimpinzano come zampogne e poi la mattina vi fanno partire però hotel ce ne sono ovunque assolutamente quindi non è un problema trovare l'alloggio mentre si pedala senza averlo programmato chissà assolutamente no l'unica una raccomandazione che vi faccio è l'acqua l'acqua e il rubinetto non è sempre buona dappertutto quindi insomma bisogna attrezzarsi per quello attrezziamoci per quello che vuol dire insomma purtroppo bisogna andare a comprare spesso le bottiglie d'acqua che però costano niente no il super dappertutto si mettendo a dire bisogna comunque prendere l'acqua in plastica e si viaggia con quello esatto e poi al di là di quello veramente lasciatevi i pregiudizi alle spalle che spesso ritroviamo nella in televisione nei film e via dicendo e lasciatevi stupire perché d'altronde anche noi italiani all'estero siamo è vero siamo pieni di siamo portatori di pregiudizi positivi no gli italiani volemose bene tutte queste cose però anche i stereotipi negativi no la storia della mafia e via dicendo ecco lì è la stessa identica cosa e così come sappiamo che se andiamo in Sicilia nessuno arriva a romperti le scatole a che ne so a disturbare a disturbare o a rapirti robe del genere a mettere bombe a tentati e via dicendo la Turchia è esattamente la stessa cosa quindi cioè approcciandoci a questo paese io l'invito che voglio fare a tutti è prima di tutto guardiamoci dentro rendiamoci conto dei pregiudizi che fuori hanno su noi stessi su di noi e poi rendiamoci conto che quello è un paese esattamente come l'Italia in cui perché è esattamente in mezzo al mare no? è una penisola in mezzo al mare che ha conosciuto millenni di dominazioni differenti e che ha mantenuto le caratteristiche di ogni dominazione e che veramente ha a cuore aperto cioè saprà accogliere noi voi e soprattutto sta facendo delle cose pazzesche sul tema dello sviluppo della bicicletta direi che siamo arrivati se volete io vado avanti abbiamo parlato solamente della costa ovest poi scendendo questo è anche il bello della fiera che poi quando si scende lì ci si può continuare a incontrare a dialogare assolutamente grazie mille Paolo Pinsuti grazie a tutti voi per averci portato in Turchia e se volete visitare lo stand della Turchia lo trovate nella temporanea quindi che è dove ci sono i talks di là l'ultimo in fondo di là il primo stand è quello della Turchia lì potete trovare informazioni, brochure e tutto quello che serve grazie spero di avervi convinto perché veramente è la mia seconda patria e chiaramente metà del mio cuore è lì grazie grazie Paola grazie